Altro sbarco di migranti nel porto di Rocella Ionica. Dopo l'arrivo nel pomeriggio di domenica di 85 migranti di nazionalità prevalentemente afghana, al termine di un'operazione di soccorso in mare compiuta dai militari della Guardia Costiera di Rocella Ionica, sono giunti 67 migranti di nazionalità iraniana, irachena ed egiziana. Tra i profughi, 48 uomini, tra cui un disabile, 9 donne, tra i quali una 75enne e 10 minori, alcuni dei quali con meno di 6 anni d'età. Prima di essere soccorsi trasferiti su una motovedetta delle guardie costiere condotti in sicurezza fin dentro il porto, i migranti si trovavano a bordo di una barca a vela localizzata a largo della costa calabrese, ad oltre 50 miglia dalla riva. La barca con i profughi sarebbe partita dalle coste della Turchia nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. I profughi, dopo lo sbarco, sono stati sottoposti a visita medica e successivamente, su disposizione della prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di prima assistenza, gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile.